I vaccini vanno utilizzati tutti, di tutti i tipi. Dal centro vaccinale di San Vittorino all'Aquila, ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, al vertice della struttura commissariale anti-covid, è tornato a lanciare un appello alla popolazione oggetto della campagna vaccinale. Troppo spesso, infatti, le persone prenotate rifiutano il vaccino meno gradito all'atto del pretriage e solitamente l'oggetto del rifiuto è il siero di AstraZeneca. I casi di trombosi delle settimane passate, la sospensione da parte delle agenzie del farmaco di mezza Europa ed una comunicazione non ottimale e trasparente degli scienziati rispetto ai possibili effetti collaterali e alle percentuali di essi, in base alle dosi iniettate, hanno generato diffidenze ed a volte paura. Un freno alla campagna vaccinale, che in Abruzzo sta correndo al ritmo di poco meno di 12.000 vaccini giornalieri, ma che entro giugno dovrebbe toccare quota 20.000. Quella dei vaccini, ad ogni modo, resta la via maestra per uscire dall'emergenza covid, accanto alla prevenzione e al rispetto dei comportamenti virtuosi. I benefici dei vaccini in Abruzzo e in Italia si stanno iniziando a vedere, così come si sono visti in Gran Bretagna, la prima a vaccinare in maniera massiva i propri cittadini con tutti i farmaci disponibili. Calano i ricoveri e le morti, specie tra i più fragili e gli over 65 e con l'arrivo del monodose Johnson & Johnson ed ora anche con il via libera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al siero Sinopharm, oltre che con un possibile sblocco dei brevetti sulla scorta di quanto fatto negli Stati Uniti, si spera di arrivare al più presto alla tanto agognata immunità di gregge e dunque ad una vita il più possibile vicina a quella pre-coronavirus. Gli effetti collaterali sono infinitesimi rispetto agli effetti che un'ultra sensata 5enne può avere, prendendo il virus che può portare fino all'effetto più negativo, sicuramente ospedalizzazione e terapia intensiva. Con la direttiva fatta dal 9 aprile per i più anziani, il cosiddetto valotante e fragili, abbiamo visto un calo repentino, un aumento da una parte della percentuale di somministrazione e vaccinazione e dall'altro un calo repentino su queste classi di ospedalizzazione e terapia intensiva. Buon pomeriggio, ben trovati alla prima edizione del Tg6 che abbiamo aperto con le parole del generale Figliuolo ieri in visita in Abruzzo e con il suo richiamo alla vaccinazione a non avere paura di utilizzare tutti i vaccini a disposizione per poter uscire presto dalla pandemia. Ma adesso invece ci occupiamo di un altro argomento della discarica, delle discariche di bussi del sito di interesse nazionale. Si sono conclusi i lavori della Commissione d'inchiesta regionale, si guarda al futuro come ha confermato anche oggi in conferenza stampa a Pescara il Presidente della Commissione Antonio Blasioli che ha rivendicato il lavoro svolto. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. E' stato portato a termine il lavoro della Commissione d'inchiesta di bussi, voi oggi in conferenza stampa avete anche rivendicato il buon lavoro portato avanti, c'è ancora tanto da fare, i tempi potrebbero però allungarsi. Intanto oggi siamo contenti di poter presentare questa relazione conclusiva, la prima volta che una Commissione d'inchiesta regionale termina una Commissione con una relazione. La Commissione verrà presa ad atto in Consiglio regionale nelle prossime settimane, è un lavoro importante e complesso, anche perché la Commissione si svolge soltanto per sei mesi. E' un lavoro che fotografa alla perfezione anni e anni, spesso anche di abbandoni, di ritardi, di impedimenti, alla bonifica, al diritto alla salute, al diritto al risarcimento che è ancora pendente in una causa di un processo ordinario di fronte al Tribunale dell'Aquila. e ha tante tante domande da parte dei cittadini, non solo di bussi, ma di tutta la Val Pescara, perché il sito di interesse nazionale è un sito di 232 ettari che interessa 11 comuni, tra cui anche il comune di Chieti. Poi il grande assente, il fiume Pescara, che passa e prende origini da quei territori e che in realtà non viene considerato parte di questo sito di interesse nazionale. Questa fotografia traccerà il lavoro prossimo, futuro, di tantissimi appassionati, di tanti abruzzesi che si sono spesi per il sito di interesse nazionale, per le persone che purtroppo ci hanno lavorato ed oggi non ci sono più, ma anche per il Consiglio regionale e per il Ministero. A cominciare dal ristabilimento dei fondi stanziati con la legge 10 del terremoto, a seguire rispetto alla sentenza del 13 maggio, che verrà decisa tra qualche giorno a proposito delle aree 2A e 2B, a degli interrogativi che ancora rimangono aperte, per esempio per le aree dell'ex Folgene e dell'ex Iprite, cioè dove svolgono i capannoni, a seguire con Piano d'Orta, dove bisogna risolvere il problema della sede della vecchia Monte Catini, e a seguire con tutte quelle aree, a cominciare da quelle che si trovano di fronte alla stazione di Bussi, dove sono stati eseguiti gli stessi rinvenimenti presenti nell'area Tremonti, e per continuare su tutte quelle aree che sono parallele alle sponde del fiume Pescara fino ad arrivare a Piano d'Orta. La Commissione si è occupata anche del diritto alla salute, io ritengo che sia un pezzo importante di questa relazione. Non c'è ad oggi uno studio epidemiologico scientifico che valuti tutto questo, però la Commissione ha preso atto di uno studio del 2015, in cui sono state verificate nei territori di Bussi e di Popoli le neoplasie. Si sono registrati 66 casi in più rispetto a quello che prevede l'AIRTUM, che è l'associazione che si occupa del registro dei tumori. È una relazione importante, sono numeri importanti, perché negli altri comuni invece sono leggermente inferiori del numero medio che è indicato da questa associazione, però non c'è una correlazione tra questi rinvenimenti e l'esposizione ambientale. avremmo veramente necessità che a distanza di tutti questi anni venga commissionato uno studio epidemiologico serio, scientifico, che valuti un po' Bussi e Popoli, ma anche tutte le altre utenze che hanno fatto utilizzo dell'acqua estratta nei pozzi Sant'Angelo. Adesso una notizia di cronaca. Un diportista di 75 anni di Ortona è stato salvato dalla guardia costiera dopo essersi ribaltato in mare con la sua imbarcazione di 5 metri. A dare l'allarme una donna a passeggio sul lungomare in località a Foro di Ortona ed anche un sotto ufficiale della guardia costiera che aveva smontato dalle servizie ed era di rientro nella propria abitazione. L'uomo è finito in acqua dopo il ribaltamento della sua imbarcazione a causa del mare mosso e del forte vento. a circa 200 metri dalla scogliera e poi è riuscito in qualche maniera a nuotare urlando e sbracciandosi tra le onde. La motovedetta del SAR della Capitaneria di Porto di Ortona non senza qualche difficoltà è riuscita comunque a mettere in salvo l'uomo che è poi stato condotto in Porto dove l'ha atteso l'ambulanza del 118 per il trasporto all'ospedale di Chieti per gli accertamenti del caso. Adesso ci spostiamo a Teramo, conferenza stampa del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini assieme alle autorità regionali e locali. Legnini ha illustrato le ordinanze speciali ed ha richiamato i soggetti attuatori al rispetto dei tempi per la conclusione delle opere finanziate. Vediamo il servizio con le interviste realizzate da Agna Cantagalli. Arriva a 32 milioni di euro la dotazione finanziaria in capo ai due soggetti attuatori Comune e Ater di Teramo per la ricostruzione post-terremoto. Ai 23 milioni già stanziati con apposite ordinanze se ne sono aggiunti altri 9 finalizzati alla sistemazione dell'edificio dell'Istituto Molinari. Il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini assieme al presidente della regione Abruzzo, al sindaco di Teramo e al presidente dell'Ater ha fatto il punto sui lavori fatti in queste settimane sulle sue ordinanze speciali, sottolineando come ora, fatto salvo tutto il supporto necessario, la palla passi nelle mani di chi poi i cantieri li deve aprire e completare nel più breve tempo possibile. Non ce la fanno i comuni, in questo caso anche l'Ater, con il proprio personale, con le strutture. Bene, vi diamo la possibilità di avere più tecnici professionisti specializzati per provvedervi. Va da sé che se lo schema è questo, io ho deciso, noi abbiamo deciso, insieme ai presidenti delle regioni, ai sindaci in cabina di coordinamento, decisione collegiale ed unanime, voglio questo sottolinearlo. Adesso il rispetto dei tempi spetta i soggetti attuatori. Il sindaco di Teramo, Gianguido d'Alberto, ha sottolineato come con i nuovi provvedimenti del commissario si sia superato anche il cosiddetto modello Genova, utilizzato per la ricostruzione a tempo di record del Ponte Morandi. Marsilio invece ha rivendicato il lavoro fatto fino ad ora sulle case Ater. Resta l'amarezza che se questi poteri lungamente chiesti sin da subito fossero stati dati anni fa, oggi staremmo a inaugurare cantieri e opere finite, soprattutto per le Ater, dove comunque rivendico il fatto che su 61 interventi il 90% sono arrivati ormai alla fine della fase istruttoria e di progettazione. Andiamo avanti. Dopo la convenzione siglata questa settimana fra Università d'Annunzio di Chieti e Pescara e Comune di Torrevecchia a Teatina per l'analisi degli anticorpi SARS-CoV-2 da spot di sangue a secco, nella giornata di domani presso l'auditorium comunale in Piazza di Resta a Torrevecchia a Teatina, previa registrazione su un link dedicato, saranno effettuati i test sierologici per scoprire se si hanno gli anticorpi del Covid-19. L'analisi permette la rivelazione semi quantitativa di anticorpi umani della classe ICG contro il SARS-CoV-2. Tale determinazione, si legge in un comunicato, fornirà il titolo anticorpale, mettendo in luce una recente, una pregressa infezione da Covid-19, monitorando l'andamento della risposta anticorpale post-vaccino. Andiamo avanti ora e ci spostiamo in Val Pescara, dove c'è carenza di pediatri dopo il pensionamento di due medici. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, chiede che la regione trovi una soluzione al più presto per evitare disagi a tanti genitori. Vediamo. Avere il pediatra di base e poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è un diritto per il bambino e per i suoi genitori. Eppure nella provincia di Pescara questo diritto sembra non essere così scontato. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle che questa mattina ha specificato come da circa un anno alcune famiglie di Scafa e dei 13 comuni del territorio a causa del pensionamento di due medici non rimpiazzati si sono ritrovati assegnati a pediatri che hanno abbondantemente superato il tetto massimo dei pazienti ammissibili e sono così in deroga. A rappresentare alla ASL la necessità di nuovi pediatri è stato questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che già mesi fa interessò personalmente l'assessore alla sanità Nicoletta Verì sulla delicata situazione di Scafa e degli altri comuni. Più che un problema tecnico direi che qui il problema è politico perché le risposte io le ho avute, le ho avute tecniche dicendo la normativa e questa non si può fare niente. Allora il problema è che lì c'erano quattro pediatri a regime e adesso ci sono rimasti due, i due pensionamenti perché sono andati in pensione e non sono stati rimpiazzati. Quindi potete ben immaginare, tutti i cittadini immaginano che tutto il carico dei pazienti che prima si riversava sui quattro pediatri adesso si deve riversare su due pediatri. E questo non va bene, quindi politicamente io chiedo una soluzione per cercare di trovare la soluzione ottimale, cioè rimpiazzare quei due pediatri. La regione deve inventarsi qualcosa perché il sovraccarico di pazienti poi rende inevitabilmente un servizio non come quello che c'era prima, perché quattro medici non sono come due medici naturalmente. L'unica soluzione che ci hanno dato, l'unica alla nostra battaglia che è iniziata diversi mesi fa è quello di consentire la deroga al massimale che prima avevano questi due pediatri. Ma la deroga significa andare a caricare, a sovraccaricare ancora di più di pazienti e non va bene così. Quindi noi saremo accanto alle madri, alle mamme, continueremo questa battaglia e speriamo che a breve la regione Abruzzo possa trovare questa soluzione. Mi è stato detto che a breve la regione si sederà nuovamente al tavolo per fare un'ulteriore concertazione, per cercare di verificare nuovamente i numeri. Ma questo è poco, io voglio la soluzione, quella di rimpiazzare i due pediatri che sono andati in pensione. Dal pensionamento dell'ultima pediatra che avevamo nel nostro distretto, partiamo dal presupposto che noi fino all'anno scorso più o meno avevamo 4 pediatri nel nostro distretto, 4 pediatri di libera scelta. Nel giro di un anno sono andati in pensione due di questi pediatri e ci siamo ritrovati con solo due pediatri sul posto. Quindi la copertura che prima avevano 4 pediatri adesso se la ritrovano solo in due. Per noi significa in primis il non poter scegliere un medico per i nostri figli. Quindi siamo stati obbligati a prendere un determinato pediatra anche contro la nostra volontà, non per nostra scelta. Quindi è venuto meno il diritto alla libera scelta dei pediatri. Nel momento in cui hanno raggiunto entrambi i medici il massimale, non c'è stata più opportunità proprio di scegliere. Quindi siamo rimasti un paio di settimane scoperti senza pediatri, in piena pandemia tra l'altro. La regione insieme al comitato regionale che si occupa di questo hanno determinato una deroga per i due pediatri che erano sul posto a prendere oltre il massimale i bimbi che erano rimasti scoperti, io li chiamo bimbi sperduti, e quindi hanno fatto questa deroga. Tanti genitori sono stati costretti ad iscrivere i loro figli di 7, 8, 9 anni dai medici di medicina generale. E con le prossime immagini andiamo alla Torre del Cerrano dove gli ambientalisti chiedono maggiori controlli e sorveglianza. Questo è l'appello che rivolge la stazione ornitologica abruzzese al prefetto di Teramo ad altri enti. Si segnala un far west, così lo hanno chiamato, sulle spiagge abruzzesi. Qui vedete il volo che ha interessato la Torre del Cerrano. Ieri attorno alle 17.15 due parapendie a motore, uno dei quali, si racconta in una nota, volava a quota bassissima sfiorando il bagnasciuga. Hanno messo in pericolo non solo la fauna dell'area protetta ma anche le persone che passeggiavano sulla spiaggia. La SOA ricorda che il sorvolo nelle aree protette è vietato tranne con apposite autorizzazioni. Non sappiamo, scrive la SOA, se siano state chieste e rilasciate. Inoltre Cerrano è severamente vietato disturbare la fauna selvatica, addirittura in questo caso in un momento delicatissimo per la riproduzione di diverse specie. Per questo l'associazione chiede controlli su tutto il litorale. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Pescara in occasione della Festa della Mamma, la spesa a sospesa di Campagna Amica nell'ambito dell'iniziativa Solo dal Cuore, promossa in tutta Italia da donne in presa della Coldiretti insieme ai volontari della QAM Medici con l'Africa. Vediamo. Con la pandemia Covid svolta Green anche per il regalo della Festa della Mamma, con la possibilità per tanti cittadini di fare le scelte giuste in un momento sicuramente complicato. L'iniziativa è della Coldiretti che in occasione di una delle ricorrenze più amate ha dato questa mattina appuntamento nei mercati contadini in tutta Italia, a Pescara nel mercato di Campagna Amica di Via Paolucci, che ha voluto e potuto partecipare a campagne di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà, dalla spesa a sospesa di Campagna Amica all'operazione Solo dal Cuore, l'iniziativa promossa in tutta Italia da donne in presa della Coldiretti insieme ai volontari del QAM Medici con l'Africa. Noi donne di Coldiretti abbiamo ritenuto importante in questo momento, un momento ancora in piena pandemia, di dare un segnale, un segnale che è un segnale di solidarietà. La nostra agricoltura è un modello di welfare e deve essere un modello di welfare. È partita quindi una rete di solidarietà nazionale ed anche internazionale, che grazie alla disponibilità di alcune sarte hanno realizzato dei cuori meravigliosi con tessuto italiano e tessuto africano. Il ricavato di questa vendita andrà in beneficenza per dare supporto a quelle donne, quelle mamme, che in Africa non riescono a portare avanti delle gravidanze con la dovuta assistenza di cui necessitano. È importante perché l'agricoltura deve saper tendere la mano, così come ha fatto durante tutto il periodo della pandemia, non fermandosi mai. È importante perché dobbiamo dare un segnale di solidarietà e di speranza anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio. Da ieri pomeriggio il Pescara è matematicamente in Serie C lunedì. La squadra saluterà definitivamente la Serie B nell'ultima di campionato contro la Salernitana allo stadio Adriatico Cornacchia, ma lo sguardo è già rivolto al futuro e su come la società potrà ripartire. Andrea Costantini. Per il Pescara la Serie C è diventata realtà con la sconfitta di Cremona. Peraltro a conti fatti la retrocessione si sarebbe materializzata lo stesso, anche con una vittoria allo Zini vista la combinazione degli altri risultati. Lunedì probabilmente ci sarà un'altra onta, mentre il Delfino saluterà mestamente la cadetteria. La Salernitana con una vittoria allo stadio Adriatico Cornacchia festeggerà proprio a Pescara il traguardo della Serie A. Uno scenario davvero crudele per chi ha già imboccato la strada verso la terza serie. I processi sono stati fatti e si continueranno a fare ancora per un po'. Nel mirino il presidente Daniele Sebastiani che ha dichiarato che parlerà solo alla fine del campionato. In quella sede ci si aspetta una chiara assunzione di responsabilità di quanto accaduto, lo ha fatto a chiare lettere solo il DS Bocchetti nell'ultimo periodo, ma soprattutto ci si aspetta chiarezza circa i programmi futuri. Gli errori fanno parte del gioco, a Pescara ne sono stati fatti e come i tifosi ne pagano il prezzo dovendo vedere la propria squadra del cuore finire in una categoria inferiore, Sebastiani in qualità di presidente e socio di maggioranza del club dovrà fronteggiare anche il danno economico che la retrocessione comporta. Dunque un mea culpa è auspicabile, ma la cosa ancora più importante è come ripartire, con quale progettualità e su che basi scegliere le persone che parteciperanno alla ripartenza. Da un lato si sente più volte parlare di necessità di repulisti, il che sarebbe il minimo dopo i risultati sportivi degli ultimi due anni. Dall'altro però non si esclude ancora in toto la permanenza di professionisti che a vario titolo hanno concorso alla retrocessione. Antonio Bocchetti ad esempio dopo la gara di Cosenza ha fatto intendere che una prosecuzione o meno del suo rapporto passerà da un confronto con lo stesso Sebastiani. In bilico anche la posizione di Giorgio Repetto, il cui occhio clinico sul fronte scouting potrebbe salvaguardarlo. Lo stesso Sebastiani settimane fa aveva parlato dell'eventualità di una conferma di Grassadogna che ieri dopo il match è stato perentorio. Se la società dovesse proporgli un rinnovo, lui chiederà a sua volta un totale a repulisti. Per me è molto chiaro ed evidente che quando c'è una retrocessione così amara bisogna assolutamente voltare pagina. E quindi fare un repulisti importante c'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di grande volontà come ho detto anche la volta scorsa, di grande desiderio di riportare il Pescara dove merita di stare. Se la società, ripeto, dovesse chiamarmi e propormi la permanenza assolutamente dirò queste parole che ho detto a voi. Insomma, dito puntato sui giocatori, sui senatori che non hanno dato il massimo e su quei giovani arrivati in prestito e dediti più a pensare a se stessi che al bene della squadra. Un messaggio che è sembrato anche un monito a una società che dovrà ricostituire il proprio parco calciatori in attesa di conoscere come sistemare i circa 10 calciatori che hanno il contratto anche per la prossima stagione. Sul fronte economico un sollievo è la presenza del paracadute per il quale il Pescara incasserà poco meno di 2 milioni utilissimi per ammortizzare una parte dei mancati introiti che comporterà la retrocessione in Serie C. Anche per questo motivo ci si aspetta che il Pescara possa tentare subito una risalita comunque molto complessa. Ma per il futuro, lo ripetiamo, si aspetta che il presidente Sebastiani faccia chiarezza su come ripartire e con quali ambizioni. Intanto scattano i play-off in Serie C domani alle 15.30. Sfida allo stadio Barbera per il Teramo contro il Palermo. Un solo risultato a disposizione dei Biancorossi la vittoria per avanzare al turno successivo. Out di Achite di Matteo Viero e Minelli. Il tecnico Paci recupera Lewandowski e dovrebbe confermare la squadra che ha battuto domenica scorsa la Viterbese con una sola eccezione, cioè il rientro di Capitano Arrigoni al posto di Lombardi. Direzione di gara affidata a Marini della sezione di Trieste. Paci presenta così il match. Lo ascoltiamo. Io credo che il Palermo ha due risultati su tre, ma questo non so, è un vantaggio sì, ma forse solo apparentemente perché comunque la partita va giocata e preparare le partite per pareggiarle non so quanto è conveniente. Io quindi credo che loro l'abbiano preparata al massimo per vincere. Se nella loro testa io credo che scatti qualcosa che anche il pareggio può andar bene, a noi fa comodo perché una squadra che gioca per pareggiare secondo me il gol lo prende. E quindi è un'arma a doppio taglio, è una partita, va giocata, le partite vanno giocate, si parte dallo 0-0. Le motivazioni io credo che siano alte da parte di tutte e due le squadre, quindi è una partita che, come diceva Gaetano, si deciderà dagli episodi. Dovremmo essere bravi a stare lì sul pezzo, a battagliare, a rimanere equilibrati, con grande sicurezza a noi stessi, rimanere molto concentrati, fare una partita tosta, quello che mi aspetto. Io sono convinto che noi potremmo far bene perché nell'ultimo periodo abbiamo molto entusiasmo, abbiamo birra nelle gambe e ci siamo preparati bene, quindi siamo carichi. Questo è il messaggio che voglio mandare. Dovremmo essere bravi a non subire gol, perché subire un gol significa che poi ne devi fare due. La nostra idea è cercare di fare un gol più di loro e questo è un mantra che nell'ultimo periodo gira nel nostro spogliatoio, cercare di fare un gol più degli avversari. L'insidio è che potremmo chiuderci troppo, potremmo essere troppo bassi. Adesso non so quale insidio potrà portare la partita, è una partita che credo sia un po' complicata per tutte e due le squadre, perché vivono un momento di forma tutte e due le squadre. Dovremmo affrontarla semplicemente al massimo dei nostri giri e rimanere equilibrati. Come ho detto prima, il fatto che non ci sia al pubblico per noi è un vantaggio, assolutamente. Non possiamo esimerci da questo dato, è un vantaggio per noi perché è uno stato importante. Abbiamo tanti ragazzi giovani, squadra. Anche se giocare con i tifosi lì sarebbe stata un'emozione forte per i nostri ragazzi, perché giocare con 10-12 mila persone per un giocatore giovane è qualcosa di importante. Un po' dispiace, però un po' siamo contenti perché ci giochiamo la partita, anche se credo che un po' di pubblico ci sarà. Nel Palermo sono indisponibili Almici, Auger, Crivello, Somma e Palazzi. Nel 3-4-2-1 ballottaggi tra Rauti e Lucca per il ruolo di punte, tra Silipo e Canutè per un posto da trequartista. L'altro sarà Floriano. Nel trio di difesa sicuri Marconi e Accardi, mentre Peretti insidia la maglia di Lancini. Ascoltiamo il tecnico dei Rosanero, Giacomo Filippi. Ogni allenatore credo che prepari le partite per vincerle. Poi è una casualità il pareggio. Noi incontriamo una squadra molto forte, costante nell'arco del campionato, una squadra composta da giocatori di livello per la categoria, di assoluto livello, allenata benissimo, e con giovani altrettanto bravi a livello nazionale. Quindi il fatto che qualcuno ci vede favoriti, non so chi sia questo a vederci favoriti. L'unica cosa al nostro vantaggio è che abbiamo due risultati su tre. Quindi se dovesse casualmente arrivare al pareggio, in quel caso saremmo fortunati. La squadra che andremo ad incontrare è una squadra temibilissima, una squadra che è stata assembrata bene a inizio campionato, ha lavorato molto bene durante la stagione. Ha giocatori, ripeto ancora, di qualità in zone importanti del campo, giocatori fisici in altre zone del campo. Quindi è stata una società, una proprietà che ha lavorato molto bene, gli ha detto ai lavori, hanno lavorato molto bene e l'allenatore è stato bravissimo con il suo staff a fare un lavoro egregio. Lucca è a disposizione, si è allenato bene, sta a regime con gli altri componenti della squadra, però abbiamo dimostrato, abbiamo lavorato e i ragazzi hanno percepito col passato del tempo che nessuno è indispensabile e possiamo fare a meno di qualcuno, ahimè, infortunato. È naturale che Lucca è un giocatore importante per noi e che lo abbiamo aspettato perché può darci diverse soluzioni, ma come lui, come Andrea Saraniti e come tanti altri. In Serie D torna il campionato domani con la ventottesima giornata, fischio d'inizio posticipato alle ore 16, sarà questo l'orario delle partite fino alla fine della stagione. Spicca il derby dell'Aragona fra Vastese e Notaresco, resta fermo ai box il Castelnuovo a causa di alcuni casi Covid nel gruppo squadra. Facciamo il punto nel servizio. Ancora una volta il Covid minaccia il Girona F di Serie D. Quattro casi sono stati rilevati ieri nell'ultimo ciclo di tamponi effettuato nel gruppo squadra del Castelnuovo. La compagine del Vomano era una delle poche, finora risultate immuni al focolaio, ma il virus ferma anche i neroverdi di Guido Di Fabio. C'è l'ufficialità del rinvio del match di domani col Vasto Girardi, ma a questo punto è praticamente scontato il rinvio anche dei prossimi due derby, il recupero di Pineto che era calendarizzato per mercoledì prossimo e quello con la Vastese di domenica prossima. Non bastasse la situazione del Castelnuovo, anche l'Apriglia è stata investita da un nuovo focolaio ed è stata rinviata la partita di domani a Rieti. Brutte notizie per un Girone F che ha visto già più volte rimodulata la pianificazione dei recuperi, e l'eventuale stop di due squadre per circa un paio di settimane è una ulteriore complicazione in vista di una chiusura del campionato già posticipata al 13 giugno. Dunque, dopo due domeniche di stop per dare spazio ai recuperi, domani il campionato torna non al completo, ma con sette partite. Tra queste spicca il derby dell'Aragona tra Vastese e Notaresco, partita delicata, un po' perché il match di andata ha lasciato qualche ruggine, un po' perché la classifica incombe per entrambe. C'è pressione sul Notaresco che dopo il K.O. di mercoledì col Pineto non può più sbagliare se non vuole lasciare la strada libera al Campobasso che ora è distante 5 punti. Epifani recupera Cancelli, mentre è ancora in forte dubbio Banegas, l'uomo in più di questa stagione, ma la cui assenza anche mercoledì si è fatta sentire. Con alcune partite ancora da recuperare, la Vastese si sta tirando fuori dalla zona play-out e domani punta alla continuità e a inanellare il quarto risultato utile consecutivo. Lasciatasi alle spalle la zona più calda della classifica, il Pineto di slancio guarda al quinto posto dove c'è un Mattese che ha 5 punti in più, ma anche 3 partite in più. Domani gli otto opportunità per la squadra di Pomante che ospita il fanalino di Coda Agnonese. Mancheranno l'infortunato Esposito e lo squalificato Galeano. Partita facile sulla carta, ma c'è il monito della gara d'andata recuperata appena 10 giorni fa, finita 1-1. Sottovalutare l'avversario è un errore da non ripetere per un Pineto che si gode l'Under Mesiska, classe 2003, rivelazione della gestione Pomante. Sì, è importante domenica e dobbiamo non pensare a ciò che è successo mercoledì scorso e provare a vincere come ogni domenica cerchiamo di fare. Sì, io l'anno scorso sono arrivato a Pineto, mi sono trovato subito bene e poi da quest'anno, sin dall'inizio, sono stato aggregato in prima squadra e poi con il mister Pomante ho trovato più spazio e per questo lo ringrazio. Per il momento il mio obiettivo personale è finire bene questa stagione e poi l'anno prossimo si vedrà e l'obiettivo di squadra è arrivare più in alto possibile. Gara fondamentale al Castrum-Morsini per il Giulianova che ospita il Monte Giorgio. Dopo il blitz di Fiuggi la pausa ha permesso al tecnico Bitetto di lavorare con continuità e migliorare la condizione dei suoi. I marchigeni sono risaliti a metaclassifica e respirano. Ora sono attesi da una tre giorni abruzzese, prima Giulianova, poi il recupero di Notaresco. Il Giulianova si affida alla giovane coppia Paudice-Barrafante per centrare tre punti fondamentali per la rincorsa ai play-out. E' tutto per questa edizione del TG6, on demand trovate i nostri servizi. Il prossimo appuntamento è alle 19 da parte mia. L'augurio di una buona giornata. E' tutto per questa edizione del TG6, on demand trovate i nostri servizi.